Buongiorno, quando io parlo con un italiano vero mi chiedono sempre Ma dove hai imparato l'italiano così bene? E io dico da Luisa, la vostra insegnante di italiano Per imparare o migliorare il vostro italiano è molto semplice Chiedete una prima lezione di prova gratuita su internet Andate al sito il-tedesco.it Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 38 Di cosa parliamo oggi? Beh, visto che siamo in inverno ho pensato di parlarvi di tutte quelle attività del tempo libero Che si possono fare in inverno ed insegnarvi qualche vocabolo e darvi magari anche qualche informazione Sui posti italiani dove si possono svolgere queste attività O fare le vacanze in montagna Bene, cominciamo con lo sci A me una volta tanto tempo fa piaceva sciare Adesso non vado più a sciare in montagna Un po' perché sono diventata pigra Pigra, lazy, foul, perezosa E poi anche perché è uno sport molto caro Ma vediamo cosa vi serve per andare a sciare in montagna Prima di tutto Cosa preferite? Lo sci da discesa? Downhill ski? Upfahrt? De senso? Lo sci da discesa? O lo sci di fondo? Cross country skiing? Langlauf? Eschi de fondo? Lo sci da discesa? Lo sci di fondo? Io personalmente preferisco lo sci da discesa Perché è meno faticoso E secondo me anche più divertente Allora, vi servono un bel paio di sci Delle racchette da sci Racchette sono quei bastoncini Da tenere in mano per sostenersi Per tenere l'equilibrio Poi gli scarponi da sci Da mettere nei piedi Gli sci devono poi avere gli attacchi Che sono quel dispositivo che unisce lo scarpone allo sci Attacchi Quindi sci, racchette, scarponi, attacchi E poi l'abbigliamento L'abbigliamento prevede una tuta da sci Oppure pantaloni da sci E una giacca a vento Giacca a vento è una giacca da montagna Oppure un piumino Il piumino è una giacca imbottita con piume d'oca Per il grande freddo Sotto ai pantaloni da sci Dovete mettere una calzamaglia Una calzamaglia per tenere calde le gambe Una calzamaglia di lana E ai piedi anche un paio di calze pesanti Molto importanti sono i guanti Per tenere calde le mani E poi il berretto in testa Una sciarpa per proteggere il collo E poi occhiali da sci Per proteggere gli occhi dal sole e dal vento E adesso siete pronti per prendere lo ski lift Lo ski lift è l'impianto Che vi permette di risalire a monte Sopra la montagna Ma in molte località di montagna In molti comprensori Ci sono le seggiovie Che vi portano a monte Stando seduti E di solito la seggiovia È a due posti Ed è aperta Oppure c'è un ovovia Che è un impianto di risalita Appunto per andare di nuovo a monte Però chiuso È una cabina a forma di uovo Cable car ovale Seilban cabine Telecabina Oppure c'è un altro tipo Una funivia Che è più grande Porta un numero maggiore di sciatori E gli sciatori stanno in piedi Ropeway Seilban Funicolari Il biglietto che si paga Per sciare Può essere giornaliero Cioè valido per un giorno intero Pomeridiano Cioè solo per il pomeriggio Appunti Cioè valido Per un certo numero Di discese a valle I più fortunati Possono fare poi Uno ski pass stagionale Cioè valido Per l'intera stagione Ecco Dove si scia in Italia? Sicuramente conoscerete Tutti le Dolomiti In Trentino Alto Adige Ma ci sono Tanti altri posti Molto belli Io vi consiglio Un posto chiamato I Monti della Luna Che si trova In Piemonte Il comprensorio Cioè gli impianti Di risalita si chiamano La Via Lattea E partendo da un paesino Che si chiama Cesana Si può sciare fino a Clavier Clavier è un posto Ad un'altezza di 1760 metri E proseguire sugli sci Fino al Mon Ginevro Al confine con la Francia Che è a 1860 metri Sul livello del mare Continuare a sciare in Francia Per poi ritornare Sempre sugli sci In Italia Ed è un paesaggio montano Veramente di incredibile bellezza Ci sono piste da sci Per tutti i livelli Le piste verdi Sono per sciatori principianti E poi a salire Le piste blu Poi le piste rosse E per finire Le piste nere Sono per sciatori Molto esperti Potete percorrere Più di 155 chilometri Sugli sci La pista nera Del Mon Ginevro Si chiama Il Colletto Verde E mi riporta Dei bellissimi ricordi Si parte Ad un'altezza Di 2560 metri Si possono percorrere 3038 metri di pista Per arrivare Alla fine Ad un'altezza Di 2065 metri Ecco Se volete vedere Un video Di questa pista C'è uno sciatore Che la fa Con una telecamera Potete andare Sulla mia pagina web www.ilmenotedesco.it Per avere il link Per vedere Appunto Questo breve video Su YouTube Ma Naturalmente Ci sono anche Molte altre località In Piemonte In Piemonte Per esempio Bardonecchia Il Sestrier Che è molto conosciuto Mentre per sciare Sull'Appennino Consiglio Il Terminillo Nel Lazio In Abruzzo Roccaraso Pescasseroli Rivisondoli Stupende località All'interno Del Parco Nazionale Io però Non sono mai andata A sciare In queste regioni Per questo Preferisco Darvi consigli Sulla mia regione Che conosco meglio Oppure Ci sono anche Le piste da sci In Valle d'Aosta Che sono bellissime Courmayeur Ecco Courmayeur Sulla catena Del Monte Bianco Il Monte Bianco È la montagna Più alta D'Europa Ci sono 24 impianti Di risalita Ad un'altezza Pensate di 3480 metri E poi è possibile Fare anche sci alpino Con altre 29 piste Con diversi livelli Di difficoltà È un luogo Veramente meraviglioso Per i più giovani Ed esperti Si può anche praticare Lo snowboard Che è una tavola A cui si fissano I piedi E ci si muove Come con un surf Invece di usare Il surf sull'acqua C'è un surf Sulla neve Chi invece Preferisce fare Attività Meno impegnative Meno pericolose E divertirsi Lo stesso Soprattutto con i bambini Può scendere Dalla montagna Con lo slittino Slittino Slet Schlitten Trineo Lo slittino È di solito Fatto di legno Mentre la versione Più moderna È fatta in plastica Che si chiama Bob Un'altra attività Che si può fare Sul ghiaccio È il patinaggio Per patinare sul ghiaccio Ci vogliono i pattini Ice skates Schlitschue Patines È una pista Ghiacciata E naturalmente Molto Molto equilibrio Molto belle Sono anche le camminate In montagna Che vi permettono Di raggiungere Luoghi Poco frequentati E stare a contatto Con la natura Per fare le camminate In montagna Avete bisogno Di scarponi Da montagna Adatti E se camminate Dove c'è tanta neve E la neve È molto alta Avete bisogno Delle ciaspole Ecco ciaspole È il nome Delle scarpe Da montagna Con delle specie Di racchette Dei pezzi Sotto alla suola Delle scarpe Per non sprofondare Nella neve fresca Una zona Molto bella Per un'escursione E vi parlo Da piemontese Quindi di un'area Che conosco È il parco Del gran paradiso Uno dei simboli Delle alpi Il parco È la più antica Area protetta D'Italia È stata voluta Dai Savoia Dai reali Per proteggere Lo stambecco Lo stambecco Rock Goat Steinbock Cabramontes È una meta Meta molto amata Per i panorami Indimenticabili Le fitte foreste Che si fanno roccia Poi roccia nuda Senza vegetazione Per l'altitudine I torrenti D'acqua Purissima E anche Tutti gli animali Che ci vivono E poi Il colle del Nivulè Un vero angolo Di paradiso Al confine Tra piemonte E valle d'Aosta Sempre nel parco Del gran paradiso Con cime Ghiacciate Le punte Delle montagne Ghiacciate Laghi Alpini Ecco Il colle del Nivulè Si trova A 2612 metri Di altitudine E da qui Potete vedere Montagne alte Più di 3000 metri Che si rispecchiano Nei laghi Alpini E sentire anche Il richiamo Delle marmotte La marmotta Groundhogs Murmeltier Marmotta Ma anche Volpi Fox Foxes Fucse Thoros Ermellini Hermins Hermeline Arminos Stambecchi E camosci Shamei Gemse Gamusas Se invece Nevica Se invece nevica E dovete Rimanere A casa Potete Sempre fare Un pupazzo Di neve Snowman Schneeman Un munieco De neve Vi serve Solo tanta neve Due rami Una sciarpa E una carota Ai bambini Piace molto Fare le battaglie A palle Di neve E dopo Essere stati Tanto tempo All'aria aperta Al freddo Si può andare In una baita Ecco la baita E il nome Delle case tipiche Di montagna O un rifugio Ecco il rifugio Ha di solito Un ristorante Un posto di ristoro Dove poter mangiare Qualcosa Di sostanzioso Come la polenta E bere una grappa Per riscaldarsi Per i più pigri Invece È possibile Andare in un albergo E farsi coccolare In una spa Cioè Un centro wellness Un centro benessere Con massaggi Sauna Piscina Questo soprattutto Se siete fortunati E potete fare Una vera e propria Vacanza In montagna Ecco la settimana Di vacanza Passata in montagna In inverno Per andare a sciare In italiano Si chiama Settimana bianca Che deriva Dal colore bianco Della neve Appunto Siamo arrivati Alla fine Di questo podcast Dedicato appunto Alle attività invernali Vi ricordo Che potete Ripassare Controllare Imparare ancora meglio Leggendo la Trascrizione Di questo podcast Vi ringrazio Per l'ascolto Per ora Cari amici E vi do appuntamento Alla prossima puntata In cui parleremo Di carnevale Ma Di un carnevale Proprio speciale Ciao a tutti Della vostra insegnante Di italiano Luisa Ciao 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 a tutti Grazie a tutti.